Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale YouTube Filiopodico 65 Aguila Scoop e grazie per essere in mia compagnia. Questa mi sembra l'estate delle follia. Ne è arrivata un'altra, un'altra bomba che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Basta fare un'attenta ricerca anche nei giornali che parlano di economia per rendersi conto quanto il gossip faccia parte di questo mondo. Bomba per Maria De Filippi, denunciata dalla SIAE, la società italiana autori ed editori. Che cosa è successo? Dicono dalla SIAE, mai pagato un centesimo per i messaggi criminali dei suoi rapper. Ma vediamo di cosa si tratta ed entriamo nel dettaglio. Sappiamo che il riferimento è al programma Amici, amici campione di incassi, amici che quest'anno cambierà per certi aspetti, almeno nelle prime quattro puntate cambierà il format, in quanto ci sarà una specie di co-conduzione, ancora non si sa come, tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Faranno una specie di verissimo all'interno del programma Amici. Quando qualche video fa vi avevo detto che Maria De Filippi, con ogni probabilità, avrebbe rinunciato alla conduzione di Amici, non avevo detto una balla, avevo detto qualcosa di molto molto vero. Anche perché lei rientra all'interno della conduzione di Amici, dietro una forte sollecitazione da parte di Persilvio Berlusconi, i quali ti dice che devi per forza esserci all'interno di Amici, insieme a Silvia Toffanin, altrimenti sembra che io ti stia rubando il format, vale a dire il programma, che ha grande successo di pubblico e al tuo posto stia mettendo la mia compagna, madre di due figli, quindi Silvia Toffanin. Alla fine hanno fatto questa specie di puzzle, chiamano così, dove non si sta capendo nulla e dove saranno Maria De Filippi e Silvia Toffanin. E questo è il programma appunto che avremo da quando partirà, credo, in autunno, quindi, Amici, perché non ci sono delle date sicure per quanto riguarda Amici. Intanto ci sarà prima Tu Sì Che Vales, poi c'è posta per te e contemporaneamente dovrebbe partire Amici. Quindi parliamo del 2025. Che cosa dice la SIAE? La SIAE, che praticamente sovraintende tutto ciò che appartiene alla musica e all'arte, espressa anche in musica, dice Tu non hai pagato mai una lira, e parliamo di 24 anni di programma di Amici, per quanto riguarda tutto ciò che propini all'interno dei tuoi programmi. Tant'è vero che i ragazzi che stanno dentro Amici non hanno sicuramente il dovere di essere iscritto alla SIAE. Ma tu che produci il programma e che metti musica all'interno e che soprattutto molti sono inediti, tra l'altro si tratta anche di rapper che dicono parole criminali, a questo punto tu sei colpevole di truffa. Hai praticamente truffato lo Stato. Quindi non hai pagato i diritti di questi messaggi criminali allo Stato, e soprattutto alla SIAE. Credo che sia stato chiaro. Praticamente, chi produce un format, lo dico in maniera più chiara e più esplicita, per capire che cosa sta accadendo, ma qui si parla di una mora di 24 anni, quindi che deve pagare Maria De Filippe alla SIAE, quindi si parla di milioni e milioni di euro, quindi non c'è una cifra ben definita. Ci sono giornali, Milano e Finanza, il Sole 24 Ore, che parlano di 15 milioni di euro che deve versare Maria De Filippe, ma è una ipotesi, possono essere di meno come possono essere molto di più. Che cosa dice la SIAE? Tu produci amici, produci un format, quindi sei titolare di quel format. Il format non lo produce Mejaset o Pessivo Berlusconi, ma lo produce la tua società, la Fascino PGT, di cui sei titolare tu e tuo figlio Gabriele Costanzo, da quattro anni. Prima, fino al 2020, c'era all'interno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo non è stato tanto bene, fino a poi ad arrivare purtroppo alla morte, e all'interno ha messo il figlio. Quindi tu sei la responsabile di tutto ciò che viene emesso con parole e musica all'interno del tuo format. Quindi noi non chiamiamo per i danni Mejaset, che ha comprato il tuo format, quindi ha pagato il tuo format, ha pagato i diritti del tuo format. Sei tu la responsabile che non sei stata attento a tutto ciò che hanno detto all'interno dei tuoi programmi i rapper, vale a dire messaggi criminali. Allora, amici miei, vi porto a una riflessione, che a questo punto dobbiamo farla un po' tutti. perché attaccare proprio nel 2024 Maria De Filippi? Mi sembra talmente una farsa questa, una, possiamo dire, una questione non di principio, ma soprattutto di scontro, che vogliono avere nei confronti della regina indiscussa della televisione, con tutti i suoi record, anche quest'estate, Contemplation Island, a settembre partirà ancora, quindi nel senso che la gente sta lì e guarda i suoi programmi, guarda anche Amici, tanto è vero che, disse una stronzata, una delle sue, Pier Silvio Berlusconi, alla fine della, cioè il giorno della finale di Amici, e fece il 35% di share, ti farò una statua all'uscita di Cologno-Monsesa. Intanto la statua la deve fare Maria De Filippi alla SIAE, perché deve versare un sacco di soldi. È possibile, tornando a prima che Maria De Filippi non sappia queste cose, è possibile che l'entourage di Maria De Filippi non si sia accorto di questo, è possibile, andiamo ancora più in profondità, che Mezzaset, per Silvio Berlusconi non si sia accorto di questo, è possibile che questi messaggi criminali, ripeto, criminali, dovrebbero essere chiusi, alcuni messaggi dei rapper e dei trapper, che sono messaggi mafiosi, messaggi criminali, messaggi che uccidono la dignità delle persone, in particolar modo le donne, che stanno lì a battergli le mani, a gritarli, a portarli chissà dove, questi mascalzoni della musica, come li ha chiamati Claudio Baglioni, ha detto, addio melodia, adesso la musica è in mano ai mascalzoni, così ha detto uno dei più grandi autori italiani, Claudio Baglioni, a cui sono poi accodati, i vari Antonello Venditti, il viaggio Antonacci, tanti altri, che ne fanno della melodia, e del canto puro, Ermal Meta, Francesco Renga, Fabrizio Moro, tutti quelli che hanno a cuore la musica, ho detto che, trapper, trapper e rapper, stanno uccidendo la musica, hanno ridotto la musica a parole, ma fossero parole intelligenti, fossero parole, per cui ne valesse la pena ascoltarli, questi sono fuori dal mondo, vivono in un mondo, allora se effettivamente, come si è sempre detto, infatti Maria De Filippi, su questa cosa non ha detto una parola, molto a mente sa, di essere nel torto, guadagna tanti di quei soldi, si parla addirittura, di oltre 150 milioni di euro all'anno, di netto, quindi che per lei, pagare 10-15 milioni di multa, non sono praticamente nulla, visto le sue rendite, questo periodo è in Toscana, col suo entourage, con tutti quelli che, l'autore, i produttori, c'è del suo format, per trascorrere, le sue vacanze, in questa villa, immensa, che ha in Toscana, dal valore, di 5 milioni di euro, sta con il suo braccio destro, che pare non sia solo il braccio destro, qualcuno ha detto che, c'è molto di più, fra le due, Raffaella, Mennoia, ma, quello che volevo dire, amici miei, perché proprio adesso, perché arrivare proprio adesso, e la CIA non si è accorta nel 2023, nel 2022, nel 2021, perché questo scontro, proprio oggi, con Maria De Filippi, e da perché, non è più, tutelata, magari c'è una forza politica, che le sta dietro, lei sappiamo, che è sempre vicina a Forza Italia, vuol dire, non c'è nessuno, che gli para il sedere, e per lei, purtroppo, saranno momenti duri, momenti amari, perché, la CIA dice, ci fossero, delle canzoni costruttive, eccetera, potevamo, anche, bypassare, ma cosa cambia, fra là, io mi chiedo, oltre che condanno, trapper e rapper, questa è una mia idea, e me la porto con me, anche perché, io sono amante del canto puro, della melodia pura, quindi, i De Andrè, i Battisti, i Dalla, i Branduardi, voglio dire, i Battiato, i grandi mostri della musica, in tutti i sensi, ma, adesso abbiamo i rapper, abbiamo i Tony F, i Tedua, i Joliet, abbiamo tutti questi, che non si capisce, una mazza, quando parlano, io, Joliet, amici miei che fa il sold out, per carità, può essere il più bravo cantante, io non conosco, il napoletano, quindi, non so che cosa dice, non so una parola, di quello che dice, e questo lo stanno aspettando, nella mia terra, c'è il sold out, ormai da tanti mesi, perché, viene Joliet, a cantare, il napoletano, che, tra l'altro, pare adesso, stia anche con questa nuova compagna, quindi, la sorella di Frattesi, ma, tornando al discorso, e poi a chiudere il video, allora, perché questo scontro, perché volere del male, a Maria De Filippi, perché Maria De Filippi, molto probabilmente, non è stata attenta, ai messaggi, dei suoi artisti, anche perché, molti di questi, e ve lo dico, perché si sa, molti di questi rapper, e di questi trapper, sono sicuramente, fanno parte della squadra, quindi, fanno parte della agenzia, della Fascino PGT, sono stati scritturati, dalla Fascino PGT, la Fascino PGT, l'ho detto più volte, nei video, amici miei, spesso e volentieri, durante la stagione estiva, organizza degli eventi, spesso e volentieri, con la Coca Cola, quindi si chiamano Coca Cola Summer Eats, e va per tutta l'Italia, lei non è interessata, ci sono i suoi manager, ci sono i suoi impresari, che organizzano, in varie parti dell'Italia, questi eventi, e sono soprattutto, gente che esce da amici, che non hanno avuto, la fortuna di vincere, il programma, e quindi, tutta gente, che poi si fa, conoscere, attraverso, lo strumento, del concerto, e quindi, lei, quindi, manda, a organizzare, le altre persone, quando lei se ne sta, in Toscana, dopo essere stata, in Sardegna, a godersi il sole, a Agostano, si dice, diceva il grande Manzoni, e quindi, e questo è tutto, amici miei, quindi, per chiudere, il video, quindi, Maria De Filippi, denunciata, dalla Siae, mai pagato, un centesimo, per i messaggi, criminali, dei suoi rapper, vediamo, che cosa succede, nei prossimi giorni, se ci sarà, un ricorso, se ci sarà, voglio dire, se farà, una conferenza stampa, finalmente, sentiamo parlare, Maria De Filippi, dopo l'ultima intervista, in cui, ha parlato, dei suoi amori, voglio dire, di qualche suo amore, un po' particolare, amici miei, se vi è piaciuto il video, come sempre, un bel segui, per quanto riguarda, i social, iscrivetevi, al canale, YouTube, Filippo di 65, Aguila Scoop, un bel, segui, è importantissimo, il like, quindi, i commenti, quindi, i commenti, la campanellina, per avere la, la notifica, io non metto niente, avete visto, scrivete, eccetera, ve lo dico, a voce, perché, mi piace, empatizzare, con voi, e come dico sempre, amici miei, più siamo, meglio è, più grande, è la nostra, cassa, di risonanza, vediamo, che cosa, succede, a Queen Mary, o Mary Queen, chiamiamola, come vogliamo, amici miei, vi voglio bene, alla prossima, di risonanza, che, la tua, che,